Le pubbliche istituzioni sono chiamate a sostenere i programmi di ricostruzione, offrendo all'Aquila le opportunità che la sua gente e la sua storia meritano, agli insegnanti, agli studenti, alle loro famiglie, va garantita ovunque la massima cura per la sicurezza degli edifici. La scelta dell'Aquila come sede di questa grande manifestazione nazionale tutti a scuola che si svolge ogni anno non è casuale, un segno di vicinanza sicuramente alla città dell'Aquila, tant'è che prima dell'inizio della manifestazione il Comitato Scuole Sicure, il Comitato oltre SMUSP, Tommaso Cotellessa come rappresentante degli studenti del liceo Cotugno e anche Mamme per l'Aquila hanno incontrato il presidente Mattarella. Sono soddisfatti di questo incontro perché sia il ministro nel suo discorso che il presidente Mattarella hanno detto che sicuramente vigileranno la situazione aquilana e soprattutto per dare impulso e un'accelerata alle ricostruzioni delle scuole dell'Aquila perché dopo dieci anni nessuna scuola è stata ancora ricostruita qui all'Aquila. Una cerimonia nazionale, dicevamo, oltre mille studenti che sono giunti da tutta Italia, a tantissime esibizioni dei cori sia locali che di scuole provenienti da altre parti d'Italia, sul palco l'Orchestra dei Conservatori diretta dal Maestro dei Amici e se tanti ospiti perché abbiamo visto la campionessa Saragama, capitana della nazionale di calcio femminile, abbiamo visto atleti parolimpici, la Pivetti, attrice con provaci ancora prof, che quindi ha interpretato di fatto in questa fiction un'insegnante, ma ci sono stati anche altri cantanti, Noemi, Rigoni Giotti, insomma tantissimi ospiti in questa giornata presentata da Francesca Fialdini e Flavio Insinna e naturalmente il sigillo a questa manifestazione è la presenza del Presidente della Repubblica, Mattarella. Per lui ottava visita in Abruzzo. Però c'è stato anche chi ha voluto manifestare così non il proprio dissenso alla visita perché non è stata una contestazione, piuttosto voler richiamare l'attenzione nazionale su un tema, quello appunto della ricostruzione delle scuole che all'Aquila ancora non c'è, sulla sicurezza dell'edilizia pubblica e dell'edilizia scolastica. Infatti c'è stato un presidio proprio a pochi passi da qui e noi abbiamo ascoltato Sara Vegni, una delle promotrici, con ActionAid. Pensiamo sia anche il momento di ricordare che l'Aquila e la zona del cratere del 2009 soffre un enorme ritardo sulla ricostruzione pubblica a partire appunto dalle scuole. Insomma noi abbiamo lottato in questi dieci anni insieme a oltre tante organizzazioni locali e nazionali proprio per velocizzare la ricostruzione delle scuole che sono il fruco della comunità e sono appunto il laboratorio del nostro futuro oltre che del nostro presente. Il compito della Repubblica è garantirla costantemente. dobbiamo rendere la nostra scuola più forte e più efficace. Con questa intenzione con questa intenzione rivolgo gli auguri a voi a chi ci sta seguendo da lontano nanoscolastico, sereno e proficuo. Grazie a tutti.